L'origine del ponte Mediceo risale a metà del 1500, quando, in seguito alla piena della sieve che distrusse l'antico ponte di Pietra, Cosimo I de' Medici commissionò la costruzione di uno nuovo. Il ponte, che collega lo storico borgo di Pontassieve con San Francesco, presenta una struttura costituita da due arcate in mattoni rossi che poggiano su un robusto pilone centrale in pietraforte, dominato dallo stemma della nobile famiglia fiorentina. Il ponte fu restaurato in due occasioni, nel 1788 e dopo la seconda guerra mondiale, quando sul Pontassieve si abbatterono 16 bombardamenti aerei degli alleati che colpirono e distrussero gran parte delle abitazioni civili, degli impianti industriali e dei monumenti, tra cui anche il ponte Mediceo. Oggi il ponte è stato recentemente arricchito di una nuova illuminazione e dal suo lastricato in pietra è possibile ammirare uno degli scorci più suggestivi della città.